Gli angeli vengono se tu li preghi, e quando arrivano ti guardano, ti sorridono e se ne vanno, per lasciarti il ricordo di un sogno lungo una notte, ma che vale una vita, vivilo in fondo perché lui non torna più. La sua connessione app щоб inserite al cinema, più, più, più. Ciao b complicated, Quena mai deglutare a tutti i 할 quelli, migliore interventi, i volevi senti la citt familia, i volevi senti la città ai che chi ti? Chi ti 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 ti. Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu. Non per tua volontà e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si timbombi, e ti basta così. Ogni dubbio va via, e i perché non esistono più è una giostra che fa questa vita. Tira insieme a noi, e non si ferma mai. Io in vita lo sai, che rimascerà. In vita lo sai, che rimascerà. E non ci ferma mai. E non ci ferma mai. Che finì non ha. Che finì non ha. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.